Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio, Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, coda verso nord per traffico tra Calenzano e B1 Variante, sempre verso Bologna rallentamenti per interventi urgenti del ripristino della pavimentazione tra B1 Variante e Sasso Marconi. Carreggiato opposta, coda per traffico tra Barberino e Calenzano. Ci spostiamo sulla Firenze Mare, 2 km di coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra B11 Firenze Nord e Firenze Peretola e code a tratti per traffico tra Prato Ovest e B111, tutto in direzione di Firenze. E arriviamo ai Fipili dove sono 5 km di coda per un incidente tra San Miniato ed Empoli Ovest nella carreggiata verso Firenze, sempre verso Firenze per traffico intenso sulla viabilità ordinaria a code a tratti tra La Strassigna e Firenze Scandicci. Carreggiato opposta, coda in uscita a Firenze Scandicci. Muoversi in Toscana Infio, servizio in collaborazione con Regione Toscana, la città metropolitana di Firenze e il comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!